Picco di accessi al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per via delle alte temperature. In particolare, gli accessi sono stati 221 nella giornata di mercoledì 27 giugno e 237 giovedì 28 giugno, principalmente tra le 20 e le 24. Numeri alti, ma nella media del periodo, fanno sapere dall'ASL Toscana Sud-Est. Fino al periodo precedente, il momento di maggiore afflusso, si aveva nella fascia oraria tra le 17 e le 20, mentre adesso, a causa anche delle temperature, gli accessi hanno un picco ogni giorno tra le 20 e le 24. Stiamo assistendo, dice ancora la ASL, ad un fisiologico aumento di problemi cardiovascolari e di infarti. L'azienda fa sapere che per un miglior servizio ai cittadini che hanno bisogno del pronto soccorso è stato necessario un piccolo riassetto delle risorse umane impiegate. Per coloro che non hanno invece necessità dell'emergenza urgenza garantita comunque dal 118, c'è a disposizione la ex guardia medica che adesso si chiama Continuità Assistenziale. In provincia di Arezzo potete contattare chiamandolo 0575 30 37 30.